Un nuovo servizio per la mobilità dolce. Il cicloturismo arriva a Lanciano con Trabocchi Mob, il progetto promosso da Legambiente e Polo Inoltra con altri enti territoriali. Sopralluogo a Lanciano con Giuseppe Di Marco, direttore di Legambiente Abruzzo, e Enrico Dolfi, direttore di Visione Ferroviaria Tua nella stazione di Via Bergamo. Una parte del porticato che si affaccia sul piazzale esterno potrebbe essere il posto ideale per ricoverare le biciclette a disposizione degli utenti. Il progetto è fattibile per il direttore Dolfi. Stiamo vedendo con Legambiente di creare un punto bici proprio qui alle mie spalle per fare in modo e in maniera che ci sia questo scambio intermodale tra turismo, cicloturismo e utenza che può soffrire tranquillamente della bicicletta a servizio sia della Via Verde che anche per la scoperta delle parti interne tipo Castelfrentano passando da Lanciano. Perché ricordiamo che al bordo dei treni Tua si può portare la bici? Si può portare la bici, ci sono otto posti bici sui nuovi treni pop, arriveranno altri sei treni entro il 2025 e ci sono sei posti bici all'interno di Minuetto o Lupetto come sono stati da noi denominati. Solo su un treno Lupetto ci sono dieci posti bici perché sono stati tolti dei sedili per rendere disponibile per l'emergenza il treno per il soccorso sanitario. E il direttore di Legambiente Abruzzo Di Marco spiega Perché questo progetto insieme alla Tua? Perché è un modo per far crescere Trabocchi Mobile, l'esperienza che ci ha portato a ragionare sul tema dell'intermodalità, scambio treno, bici, autobus, ma anche su una mobilità accessibile sull'intera costa di Trabocchi. Ovviamente questo progetto deve crescere, questa nuova edizione guarderà sempre più verso l'interno e Lanciano rappresenta un presidio nuovo da questo punto di vista che può ulteriormente valorizzare l'intero servizio. E quindi siamo qui oggi a ragionare insieme con Tua su come mettere in campo questo progetto sperimentale nel miglior modo possibile e lanciarlo per quest'estate.